Ciao ragazzi, ciao ragazzi, interattivo diverso dal solito perché bisogna accontentare un po' tutti, però sarà un interattivo un po' più veloce e quindi facciamo una domanda con la risposta diciamo più o meno secca, un sì o un no, cerchiamo di capire brevemente le dinamiche. Vi dico così perché tanti che vogliono il fatto che le carte vengano mescolate in diretta devono pur capire che caricare un video su youtube richiede tanto tempo, cioè a volte devi abbassare la risoluzione, le immagini sono brutte, tu hai delle belle carte, le vuoi mostrare e non lo puoi fare, non tanto per il fatto estetico ma per il fatto che potrebbero piacere alle persone che guardano il video. Perché poi i primi interpreti siete voi, secondo me i video li dovete anche riguardare senza volume per potervi da soli fare una sorta di autolettura, non quella del gas ovviamente ma delle carte. Detto ciò, quindi dobbiamo fare un video un po' più contenuto e soprattutto almeno io che spesso carico il video utilizzando l'hotspot del cellulare, ogni video che pesa un giga per dire consuma un giga del cellulare, non che sia un problema, è che spesso poi rimango senza giga e per un po' di tempo non posso postare video. Quindi cerchiamo di venirci incontro. Detto questo, la domanda sarà, ma lui mi ama veramente? E soprattutto lo possiamo declinare anche, ma lui mi ha amata veramente? E quindi qui ci vuole tutta la vostra, non fantasia perché si tratta di cose vere, ma la vostra capacità immaginativa per visualizzare bene la situazione e contestualizzare. Quindi questo video lo potete declinare in vario modo, potete anche scegliere varianti diverse per sapere il partenere attuale, quello passato, non lo so, sta a voi. Le varianti sono tre, gommina viola, gommina salmone, gommina verde e utilizzeremo gli arcani maggiori. Ci limiteremo a questi qui, quindi io direi se vogliamo di cominciare. Poi magari cerchiamo di capire un attimo la situazione, possiamo tutt'al più ecco aggiungere qualche carta con il mazzetto della Sibilla che si può mescolare facile. Innanzitutto per quanto riguarda la variante viola, lui mi ama, mi ha amato veramente, quindi potrebbe anche averci lasciato, essersene andato, stare in silenzio, non sappiamo che fine ha fatto, abbiamo scoperto che ha dieci mogli, non lo so, vedete voi. La domanda è rivolta a noi stessi, mi ama, mi ha amato veramente? Allora, cerchiamo di capire. Beh, l'incontro con voi è stato sicuramente un incontro scritto nel destino, sebbene tutti gli incontri siano scritti nel destino, però è stato un risvegliare delle energie che erano sicuramente sopite, se non addirittura morte e sepolte, se mi passate questo termine. È stato un qualcosa che è venuto dall'alto, è stato un colpo di fulmine, è stata una sensazione forte che ha veramente risvegliato sentimenti profondi e anche delle passioni oscure. Quindi per questa prima variante io direi che qui sicuramente il sentimento, e non l'amore, andiamo un attimo a chiarire, il sentimento c'è stato, è stato sincero, guardate, non se l'è scelta questa cosa ma l'ha subita perché è stato uno schiaffo all'improvviso. Non se l'aspettava neanche questa persona di provare per voi simili emozioni, quindi potrebbe anche essere andata a finire male, però ciò non toglie che queste emozioni le abbia provate per davvero, poi magari non le ha comprese, le ha comprese male, si è comportato da fedente, però le sensazioni sono stare vere. Questa è una persona che molto probabilmente è entrata nella vostra vita e come entrata se ne è andata via. Forse non vi ha neanche dato le spiegazioni e forse non ve le ha date neanche all'inizio quando si è avvicinata a voi. Questa persona probabilmente non è in pace con se stessa, è alla ricerca di qualcosa e non sa nemmeno lei che cosa sta in realtà cercando. Però continuo a procedere, potrebbe anche arattarsi di una persona che entra da una storia a un'altra. Però il punto è che mentre le storie normalmente le vive in maniera un po' tarassica, cioè un pochino così irrazionale, in fondo sai sono un uomo, sono una donna, sono fatta di carne, la passione c'è, ogni tanto ce la concediamo. Eh, ma con voi non è stato così. Eh sì, se l'è stato un fulmine ci alzere, vediamo un po' e poi vediamo con il mazzetto della Sibilla. Sì, comunque vi confermo, questo andare e venire è probabile anche che questa persona tuttora entra, entri scusatemi, ed esca dalla vostra vita, è sempre la stessa, eh, guardate quanto è bella la posizione. Viene e se ne va. Viene a cercare qualcosa e porta via qualcosa. Si appoggia sempre a qualcos'altro, che vuol dire, sicuramente mette davanti a sé una scusa con la quale si giustifica per il suo comportamento, oppure un muro con il quale tace sul suo comportamento. Sicuramente ha un vincolo, perché quando arriva e quando se ne va c'è qualcosa che lo trattiene. Però non è un vincolo così forte nei vostri confronti che lo costringa poi alla fine a restare. È una persona leggera, è un po' superficiale, fa poca luce sulle situazioni e porta via poche cose, ma porta con sé in generale poche cose. Comunque è uno che potrebbe avere un comportamento bizzarro, potrebbe essere di poche parole o potrebbe essere strano, non convenzionale. Sicuramente è una persona che vi ha colpito molto. Voglio vedere solo un'altra cosa. Secondo gli arcani come va questa storia? E comunque, secondo me, qui la situazione è ancora in essere. Non è chiaro assolutamente, non si sbilancia questa persona, non vi spiega niente, non vi dà nulla. Proprio, proprio, dovete tirar fuori tre parole, una carezza proprio con le pinze. È più quel che prende che quel che dà, il bello è che in realtà neanche vi dà, cioè tutto è questo. Non è che vi fa i complimenti, cioè quindi non è che esagera in parole gentili, ma neanche ve ne dice di brutte. È ambiguo, è una persona ambigua, ma io credo che ce l'abbia proprio come atteggiamento. Vediamo un attimo. Sempre su questi sentimenti, per questa gommina viola. Se questi sentimenti sono stati comunque sinceri, e che cosa c'era dietro questi sentimenti? Vediamo un po'. Allora, 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 allora. Questa è una persona di poche parole, che però, credo, se ha detto qualcosa, siete riusciti a fargli dire quella mezza parola in più che lui mai avrebbe detto a qualcun altro. Può essere anche che nell'intimità del letto, nudo di tutte le sue sovrastrutture, in un momento di estasi, di piacere e condivisione, gli sia sfuggito un ti amo. E credo che come l'abbia detto lui, velocemente subito se l'è rimangiato coi comportamenti. E questa cosa vi è riempito di gioia. E probabilmente, ora, siete un pochino confuse, destabilizzate, e anche un pochetto incazzate se mi passare il termine. Perché? Si è risultato tutto a quell'episodio, vediamo cosa ci vuole dire questa carta. E infatti voi siete lì che attendete. Voi state aspettando di capire. Torni, non torni, resti, te ne vai, è vero, non è vero, mi hai detto, non mi hai detto, mi lasci in testa. Cioè, vi ha lasciato in una situazione di sospensione. Però vi posso dire una cosa. Sebbene questa persona rimarrà ambigua, e ancora la questione secondo me è lunga, il sentimento che prova per voi, al di là della connotazione che volete dare a questo sentimento, è comunque reale. Cioè, lui può anche negare, può dire un sacco di stupidaggini, ma il sentimento è reale, l'ha provato, e lo prova tuttora. Ed è questa la cosa che lo vincola di più. Perché io credo che questa persona sia una di quelle persone che, come entra in una storia, se ne va velocemente. E se ne è altamente disinteressa, è disinteressato poi a quello che provano le persone di cui sfiora la vita, diciamo. Vediamo per la variante gommina verde, se i sentimenti di questa persona, se questa persona vi è amato veramente, e se i suoi sentimenti sono stati sinceri nei vostri confronti. Vediamo un po'. Vabbè, abbiamo tutte persone singolari, eh. Altra persona ambigua. Altra persona che entra nella vostra vita in maniera stranissima. Altra persona che probabilmente ne esce in maniera ancora più strana di come vi è entrata. Qui abbiamo un tipo più ambigua della situazione di prima. Questo vi ha detto un sacco di chiacchiere. Cioè, è stato talmente abile da confondervi. Quando vi ha detto le cose serie, non avete capito che si trattava di cose serie. Quando vi ha detto le stupitaggini, le avete prese per cose serie, si sono creati i frattentimenti. Fondamentalmente c'è stato anche un discutere. C'è stato un rinfacciarsi cose. C'è stato un parlare al vento. Avete parlato a una persona che non vi ha dato spiegazioni. Una persona che non ha preso una posizione. Una persona che come è entrata, come questo gambero, se n'è andata, ha fatto dieci passi indietro per ogni passo avanti che ha fatto. Siete rimasti arroccati tutti e due sulla vostra posizione, quindi anche separati. Non si vede il giorno, siamo immersi nella notte e non si sa dove si andrà a parare. Quindi, qui abbiamo un tipo che le idee chiare non le ha, anzi, assolutamente. Qui potrebbe aver bleffato con voi. Vediamo un attimino. Che altro ci dicono le carte? Per questa seconda variante. Allora, abbiamo questa bella carta del movimento. E dobbiamo contestualizzarla un po'. Cioè, è una persona che ha accumulato frottole su frottole per confondervi? Che ogni volta che ne ha detta una, si è trovato vincolato a doverne dire una peggiore, andando avanti, procedendo e peggiorando la situazione? E' una persona che ha smosso di continuo le acque, rendendole ancora più torbide di quello che erano all'inizio? E' una persona che non ha una base ferma nelle sue intenzioni, nel suo modo di dialogare, di condividere quest'ultima con voi. E' uno che agita le acque, che confonde e che ogni cosa che gli ponete dinanzi, chiedendo spiegazioni, sovrappone altre cose per confondere ulteriormente. Comunque sì, è una persona indecisa, non vi ha fatto capire niente, è stato un po' manipolatore, aveva tutti gli elementi per iniziare, ma non ha mai portato a conclusione. A questo bel tavolo, che ha tre gambe, ma è stabile, la quarta gamba manca. Lui, che porrebbe essere l'inizio di ogni cosa, il mago, il trasformatore di energie, l'alchimista, in realtà sta lì con la mano sul fianco a guardarsi l'altra mano. Questa persona la decisione non la prende, non ha chiaro per sé proprio quello che vuole dalla vita, non è stata una persona chiara con voi e molto probabilmente ha approfittato di voi. Vediamo un pochino meglio. Un pochino meglio la situazione. Mi dispiace ragazzi, per fortuna che state guardando che le stiamo mescolando. Se le avessi fatte i mazzetti, secondo me, mi avrebbero detto, le hai messe apposta. Beh, e qui anche voi siete lì, cercate di capire, state scrutando l'orizzonte. Vediamo un po' in che modo anche, perché lui tanto non vi fa capire niente. Vi ha immobilizzato. E sapete perché? Perché voi vorreste fare il punto, capire qualcosa e vi state debilitando, perché non ce la fate più. Non reggete più i suoi comportamenti, il suo andare e tornare, il suo confondere le acque, il suo rimaneggiare, il suo negare cose che ha detto, affermato, ha fatto, negandole in maniera spudorata, sfacciata. Cioè veramente vi ha tolto la tranquillità questa persona, è entrata nella vostra vita, nella vostra casa, nella vostra quotidianità, nella vostra intimità e vi ha tolto la pace. E la cosa che più di tutte vi debilita è proprio il fatto di avere intuito e di avere quasi la certezza del fatto di essere stati raggirati. Vediamo un po' cosa ha combinato questo tipo che è entrato nella nostra intimità, nel nostro vocolare domestico. Anche qui abbiamo un uomo di chiacchiere. Vediamo in che senso questo messaggio, questo uomo superficiale. Potrebbe anche essere che quest'uomo si sia approfittato di voi, vi potrebbe aver aggirato con le chiacchiere, potrebbe aver usufruito, approfittato della vostra disponibilità. Lo potreste persino aver aiutato, se non a livello proprio economico, a livello materiale. Comunque abbiamo una sorta di mezzo sbandato, non è cattiveria. Io vi dico, quello che vedo, tanti mi rimproverano per le parole che uso, ma qui stiamo così. Potrebbe essere anche una persona che si è approfittata di voi. E che poi quando non avete più, diciamo, ricoperto il ruolo o la funzione di quella di cui lui aveva bisogno, ha detto arrivederci e grazie. E tra l'altro non va neanche restituito, un minimo di quello che ha preso, che ha portato via. E infatti probabilmente voi, dopo un po' di tempo, avete cominciato a capire qualcosa. Forse vi è arrivata a voce da qualcuno. Probabilmente avete scoperto qualcosa su di lui e avete iniziato a dubitare di tante cose. In un primo momento credo che voi vi siate fidati di questa persona. Quindi per me, qui in sincerità nel sentimento non c'è, mi dispiace, ma sarò un approfittarsi. Eh sì, voi siete stati una sorta di cuscinetto, avete attutito problematiche suoi, colpi suoi, lo avete aiutato. Siete stati veramente il colpo di fortuna improvviso in una situazione per lui complicata. E vi ha lasciato là in attesa. C'è senso una spiegazione? Sicuramente. Ha approfittato su tutti i fronzi. Materiale, sessuale, spirituale. Credo che questa persona abbia paventato anche tanta... Questa è stata una persona, io penso sempre ai gemelli, comunque una persona così, con uno scorpione, non lo so, ma più gemelli, più un segno d'aria. È entrata in maniera molto rumorosa, molto strana, proprio questo matto di tarocchi, in maniera proprio non convenzionale nella vostra vita. Ha fatto un sacco di caciara. Ve ne ha detto di tutti i colori, quella ruota che gira, 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 ha confuso tanto le acque, vi ha un po' intontito, vi ha un po' così come... È come se vi avesse un pochino ipnotizzate. E io credo che solo adesso, a distanza di tempo, avete cominciato un po' a far quadrare le cose, un po' a capire in che situazione vi siete cacciate insieme a lui. E comunque la mia risposta è per questa seconda variante, e qui di sincero non c'era assolutamente nulla. Solamente voi eravate la parte sincera di questa situazione, se mi posso permettere. Passiamo così alla terza variante, una variante arancione. Eccoci qua. Vediamo se questa persona è stata sincera, se il suo amore era sincero, se i suoi sentimenti erano sinceri. Allora, questa è una persona molto molto creativa, è una persona capace di risolvere le situazioni, è una persona che non ha bisogno di appoggiarsi, né di approfittare di nessuno, è una persona che può facilmente procedere al fianco di un'altra, senza sovrastarla, senza renderla dipendente. È una persona libera che però concede e riconosce libertà. Dovrebbe essere di per sé una persona schietta e sincera, che diceva ne pane, il vino al vino. Se si trattava di una storia di sesso, questa persona ve lo vorrebbe aver detto in maniera palese. Se è stato amore e ve l'ha detto, nello stesso modo ve l'ha detto in maniera chiara, senza troppi giri. Quindi qui dovremmo avere a che fare con una persona comunque sincera. E comunque ragazzi, io non ci posso fare niente, calcolo la probabilità. Qui sono tutte persone che sono entrate nella vita in maniera strana. E probabilmente da queste situazioni che poi si sono create sono anche usciti. Cioè a me vengono tre varianti in cui in realtà questa storia nella prima è un entrare e un uscire, nella seconda è una chiusura e qui abbiamo comunque una situazione un po' strana. Vediamo se c'è una chiusura o anche qui è un entrare e un uscire. Però non vedo proprio la stabilità. È più facile che si tratti in tutte e tre le varianti di storia comunque di amanti. E poi non so che dirvi, ma è come in questo momento le stiamo mescolando anche insieme, quindi. Le carte vogliono parlarci così. È una persona vincolata. Eh, qui abbiamo qualcosa. Una relazione a monte, una famiglia. E a me torna la questione che questa persona vi ha detto le problematiche che ha. Io credo che ve le abbia rese chiare fin dall'inizio. Che potevate procedere assieme. Sarebbe stato però un procedere parallelo. Non infondersi in un'unica cosa. Però quello che avete vissuto insieme è stato comunque sincero. Forse è più da parte sua che da parte vostra. Perché lui l'ha vissuto veramente in maniera sincera, senza aspettarsi nulla di più. E forse voi invece avete preteso qualcosa in più. Tanto che poi alla lunga dovrebbe essersi chiusa questa situazione. In maniera anche abbastanza rogambolesca. Scusate. Vediamo un po'. Di chiarire meglio. Che cosa è successo? Però questa è un'altra persona sincera. O meglio che non è tanto il fatto che sia stata sincera con voi. Questa persona è proprio sincera in generale. Non lo fa per una questione morale o di correttezza. O scusatemi. Beh, vediamo un po' cosa ci vogliono dire queste carte. Abbiamo deciso che dobbiamo escolare queste. Ce le prendiamo tutte. Questa persona lo fa proprio come impostazione. Anzi, potrebbe sembrare fredda, distaccata. Ecco perché è anche questo matto. Probabilmente è un'altra persona bizzarra. Abbiamo trovato tutte persone un po' strane quest'oggi. Vediamo un po'. Il vincolo si conferma. È una persona che non ha una situazione di libertà. Non può in realtà scegliere. Si concede delle cose. Lo fa di nascosto. La persona con le quali si concede queste cose con questa persona. È chiaro fin dall'inizio. Si può essere restaurato questo meccanismo della gelosia comunque da parte vostra. Il non accettare quella lunga questa situazione è portata alla rottura. Quindi è questo capovolgimento della situazione. Quando vi siete comunque incontrati è stato un darsi reciproco. Lui vi ha offerto quello che vi poteva offrire. Vi ho detto io questo ho, questo vi posso dare a te va bene. Probabilmente voi siete stati molto presi anche a livello sessuale. La situazione si è chiusa e comunque sia non poteva avere un seguito a livello soprattutto di coppia. Lui non si può svincolare. Vi siete divertiti finché ve lo siete concessi. E voi siete rimaste lì. Abbiamo la carta del sospiro e del mercanteggiare. Io credo che tuttora tra voi ci sia possibilità di contatto. Che per quanto riguarda lui, lui potrebbe portare avanti questa situazione all'infinito. Perché tanto vi ha messo in chiaro tutto fin dall'inizio. È stato sincero, è sincero, l'attrazione la prova è vera e ve lo dice in maniera chiara. E cerca anche di venirvi incontro. Di capire come fare per vedervi. Cioè si impegna anche con tutti i vincoli che ha. Però voi siete un attimo lì ferme perché c'è qualcosa che a voi non convince. A voi questa situazione purtroppo per carattere non vi va giù. E probabilmente dopo l'emozione e la passione dell'inizio, nonostante proviate anche voi una grande attrazione, voi vorreste portarlo dalla vostra parte. State lì ad attendere che lui possa scegliervi. Però purtroppo vi dico, vi confermo, che in questo momento la possibilità di svincolarsi lui non l'ha. Tutti e due i mazzetti poi ce l'hanno confermato con questo appeso e con la carta della prigione. Il vincolo è forte. C'è un appeso per il piede, l'altro per le mani. C'è per dire che comunque è un vincolo che lo trattiene a 360 gradi. Da cui si può staccare solo magari concedendosi delle storie con delle amanti. Magari il sentimento è anche più sincero che verso la compagna con cui sta. Però c'è il vincolo. Quello è reale. Va bene, io vi ringrazio. Spero che vi sia piaciuta anche questa altra modalità di interattivo. Grazie per seguire il canale. Lasciatemi le vostre richieste. Vi auguro una buona serata e vi abbraccio.